Alle nostre spalle il ponte Belvedere, ieri come è noto è stato consegnato dal Comune alla ditta che eseguirà lo smontaggio del ponte, poi il riposizionamento del nuovo ponte, il cantiere. Qualche disagio inevitabile alla viabilità, nonostante però un po' di caos. Ieri oggi la situazione scorre abbastanza tranquilla, anche perché come vedete nelle immagini del nostro operatore Donatello Ricci, il Comune, vista la chiusura di via Fontesecco, ha tracciato anche dei percorsi alternativi, soprattutto per il traffico locale e per i residenti. Ovviamente un condominio per sicurezza è stato sgomberato, i lavori sono iniziati e sono in corso. Sino al 29 ottobre gli aquilani dovranno patire qualche disagio delle viabilità in una delle arterie più importanti della città, questo perché finalmente sono partiti i lavori del ponte Belvedere, ma la chiusura è stata abbastanza chirurgica, proprio per evitare troppe complicazioni e dopo le difficoltà iniziali di ieri, oggi il traffico sembrava abbastanza scorrevole, anche perché sono stati indicati dei percorsi alternativi dal Comune. Soltanto chi non è del posto ha provato in vano, costretto a rigirarsi, ad entrare nella via. Sono diversi però i cambiamenti che interessano la viabilità e molti parcheggi per il momento sono sacrificati, ma era inevitabile. Soltanto i mezzi che sono impegnati nella ricostruzione della città possono raggiungere la zona di via Sallustio. Il Comune, come si diceva, ha indicato dei percorsi alternativi in ingresso e in uscita e intanto temporaneamente sono stati sgomberati 40 appartamenti che si trovano al Civico 29 di via Fontecchio, un palazzo che è situato al di sotto del ponte per sicurezza. I condomini sono stati trasferiti in struttura ricettiva al progetto case. È l'associazione temporanea di imprese Edimo Todima che si sta occupando dello smontaggio e del posizionamento del nuovo ponte progettato dall'ingegner Fausto Fracassi. L'importo del progetto è di circa 5 milioni e 200 mila euro, di cui 200 mila sono per la demolizione, che però non è una vera e propria demolizione ma piuttosto uno smontaggio del vecchio ponte. La storia del ponte è controversa e lunga, tanti cambiamenti in corso d'opera e ritardi, ma finalmente la città potrà avere quest'opera così importante. Chi plade a questo inizio dei lavori è il comitato Ponte Belvedere, presieduto dall'avvocato Gianluca Museo, che non ha mai mollato la sua battaglia e che è stato un pungolo per l'amministrazione. Per lo smontaggio del ponte, spiega l'ingegner Fracassi a Rete 8, ci vorrà un mesetto se non ci saranno intoppi e per il riposizionamento 210 giorni circa, 8 mesi e mezzo in totale dunque per riavere l'opera, se tutto filiera al liscio, come tutti auspicano.